A pochi giorni dalla fine del mercato arriva un altro addio in casa a Gela Calcio. A fare le valigie stavolta è il centrocampista Andrea D'Amico. Addio a sorpresa da parte del numero 10 Biancazzurro, imprescindibile per mister Mirko Fauciana e titolare fino a domenica contro la Nebros. Va via dopo un anno esatto nella nostra città, arrivato lo scorso dicembre al GLC che per poco non si salvò grazie anche ai golli alle giocate del centrocampista catanese. D'Amico andrà a giocare probabilmente nel Profavala. In entrata pare che la società si è interessata invece all'attaccante del Mazzarone Ibrahima Diallo, ex Comiso e Siracusa. Per lui tre gol siglati in campionato finora. Il bicchiere è mezzo pieno ma poteva anche straboccare. Il Gela chiude il girone di andata al quarto posto in classifica nel girone B del torneo di eccellenza. Un risultato positivo, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Biancazzurri al quarto posto come reti realizzate, avendo segnato 24 gol ma con 16 reti subite. Rendimento sicuramente migliora il Vincenzo Presti dove sono arrivati 16 punti frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte contro Modiche e Mazzarone. Meno continua invece l'andamento in trasferta con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Damiano allo giudice è attualmente il miglior marcatore biancazzurro con 8 gol realizzati in 15 partite, seguito da Alves, autore di 4 gol, e Resu Fiambate, autore di 3. Sul campo pesano il rimpianto della sconfitta al tavolino a Lentini e i 5 punti persi tra Mazzarone e Atletico Catania, partite che potevano avere un finale diverso. I tifosi sono delusi dal comportamento della dirigenza. A fronte di 7 recessioni contrattuali è arrivato per ora il solo Rai Signatè. Troppo poco per affrontare il girone di ritorno, quando squalifiche infortuni saranno in agguato, come è accaduto l'anno scorso in promozione. I malumori della piazza sono stati percepiti anche dalla dirigenza, ed è noto che Bonaffini aveva in mano rinforzi di livello altissimo come Ortiz, Manpre, Mauro e Retucci. Le riflessioni interne hanno fatto perdere tempo, Mascherra appare sereno e vuole un geracalcio competitivo per il girone di ritorno. Nel mirino per gli ultimi giorni di mercato, un attaccante ed un centrocampista. Bonaffini ha Genome in mano. Si muove qualcosa anche in casa Gera Futsal, anche se è in uscita. Ad andare via è il capitano Mirko Caglià, corona portante della squadra da anni e tra i senatori dei Biancazzurri. Per questioni lavorative smetterà col calcio e abbandonerà il club dopo la gara contro il Ciriale del 6 gennaio. Zero acquisti invece per la squadra, che si ritrova ancora all'ultima posizione in classifica, a meno 9 dalla zona salvezza. La squadra giocherà sabato 23 dicembre contro l'arcobaleno Ispica, sesto in classifica a 12 punti.